Buongiorno! Dove mi porti? A mangiare da Carlino! Uvesce! Uvesce! Risottino! Risottino! Giratina improvvisata perché non si doveva andare perché non sto ancora tanto bene però si va perché perché avevamo fatto una cappellata praticamente ci eravamo scordati la pompa dell'acqua del camper accesa che non si sa da quanti giorni stessa andando e quindi andiamo a provare un po' che funzioni tutto correttamente prima di andare via per Natale. Ciao bimbi! Dove si va? A mangiare a Carlino! Da Carlino! Da Carlino, da Carlino, quello che è! Salutate? Ciao! Wow, di te! Ciao! 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 E dopo la volata col drone ora si pattina e si va un po' sul pontile credo. Puntile, ciao babbo. Sei felice di essere sul Puntile? No.